Ciao a tutti, oggi con questo video tutorial voglio farvi vedere come si realizza il punto cesta che è un punto molto molto carino per la realizzazione di borse, di cuscini, di copertine e di quant'altro abbia bisogno di un punto molto compatto, è veramente molto semplice da realizzare e molto carino il nostro punto cesta si realizza su un multiplo di 10 maglie, il punto si sviluppa su 10 maglie quindi lo realizzeremo con un multiplo di 10 maglie, io adesso nella mia catenella che utilizzerò per farvi vedere il punto ne ho messe su 30 e vado a lavorare la prima riga di lavorazione del punto cesta facendo le mie 2 catenelle iniziali salto 3 catenelle dall'uncinetto e vado a ricoprire tutta la mia catenella iniziale di maglia alta il punto cesta si lavora tutto a maglia alta e quindi vado a ricoprire tutta la mia catenella con 30 maglie alte conteggiando anche la prima, le prime catenelle sostituiscono la prima maglia alta e procedo con il ricoprire tutta la mia catenella di maglie alte una volta che avremo terminato di realizzare tutta la nostra riga a maglia alta inizieremo la riga di punto cesta facciamo 2 catenelle iniziali per il primo punto soltanto e andiamo a lavorare in costa davanti e dietro quindi i primi 5 punti li lavoreremo in costa davanti quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad inserire l'uncinetto nella costa quindi non andiamo nel punto, andiamo sotto e andiamo a scavallare il punto prendendolo lateralmente in questo modo carichiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo la maglia alta e lo dobbiamo fare per 5 punti, il primo sono le 2 catenelle, 1, dobbiamo farne ancora 3 quindi carichiamo il filo, entriamo nello spazio che c'è tra i 2 punti alti, tra le 2 maglie alte in questo spazio passiamo dietro alla maglia alta così dietro carichiamo il filo sull'uncinetto e facciamo la maglia alta così facciamolo ancora una volta, carichiamo il filo scavalliamo la maglia alta da dietro entrando nel punto che si trova tra le 2 maglie alte del giro precedente così e usciamo nel punto tra le altre 2 maglie alte così e ancora una volta quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo lo spazio tra una maglia alta e l'altra entriamo e dobbiamo uscire nello spazio tra la maglia centrale e quella successiva in questo modo e abbiamo realizzato le prime 5 maglie alte in costa davanti e adesso le dobbiamo fare 5 in costa dietro dobbiamo fare la stessa identica cosa, quindi caricare il filo sull'uncinetto però andare ad inserire l'uncinetto sempre nel diciamo nel buchino che c'è fra le 2 maglie alte però dalla parte retro in questo modo così e scavalliamo la maglia alta dal davanti questo è il retro del lavoro prendiamo il filo rifacciamo perché me lo son perso entro dal davanti scavallo la maglia alta carico il filo e poi lavoro la maglia alta quindi carico il filo entro nel forellino tra una maglia e l'altra scavallo la maglia e entro nell'altro forellino catturo il filo e chiudo la maglia alta e lo facciamo per altre 5 volte per altre 3 volte dobbiamo avere 5 maglie alte in costa davanti e 5 maglie alte in costa retro e ora stiamo facendo quelle in costa retro in costa dietro ecco qui abbiamo fatto le nostre 5 maglie alte in costa dietro 1,2,3,4,5 ora nuovamente 5 in costa davanti quindi tiro sul filo lo inserisco dal davanti questa volta passo dietro la maglia alta e lavoro la mia maglia alta così un'altra volta un'altra volta fino a 5 e procediamo lavorando il nostro ferro in questo modo lavoriamo 5 maglie in costa davanti e 5 maglie in costa dietro fino al termine della nostra riga procediamo adesso con il giro successivo ovviamente nell'ultima maglia io l'ho fatta senza farvela vedere ve la faccio vedere per evitare nell'ultima maglia che sono le 3 catenelle iniziali lavoreremo nello stesso identico modo quindi inseriamo però ovviamente non avendo più altre maglie oltre inseriamo e avvolgiamo la nostra maglia alta le nostre 3 catenelle facendo una maglia alta in questo modo ora avvoltiamo e procediamo col fare 2 catenelle andiamo adesso a lavorare sempre nello stesso modo quindi andiamo a prendere a caricare il filo sull'uncinetto entriamo fra una maglia alta e l'altra del giro sottostante in costa davanti e ora dal giro successivo è più semplice perché le vediamo meglio le maglie quelle che sono in rilievo le lavoriamo in costa davanti in questo modo quelle che sono dietro le lavoriamo in costa retro così abbiamo una visione del lavoro molto più semplice da affrontare in questo modo quindi lavoriamo le nostre 5 maglie in costa davanti e 5 maglie alte in costa retro e procediamo così per tutta la riga dobbiamo lavorare 3 giri in questo modo quindi lavoriamo 3 righe lavorando 5 in costa davanti e 5 in costa retro 3 righe dopo di che voltiamo il lavoro e andremo a fare il cambio comunque lo vediamo insieme adesso lavoriamo ancora questa riga e una successiva lavorando sempre le maglie come si presentano quindi quando vediamo la maglia in rilievo la lavoreremo in costa davanti quando vediamo la maglia in retro la lavoreremo in costa dietro per questa riga e un'altra ancora in tutto devono essere 3 ecco qui adesso abbiamo realizzato i nostri 3 giri di maglia di punto cesta i primi 3 giri e ora completiamo tutto il nostro punto andando a voltare il lavoro fare le nostre 2 catenelle iniziali e andando a invertire la lavorazione ossia dove abbiamo lavorato il punto in costa davanti andremo a lavorare il punto in costa retro e viceversa quando abbiamo il punto in costa retro lavoreremo il punto in costa davanti come abbiamo fatto prima solo invertendo le posizioni quindi qui abbiamo lavorato in costa davanti adesso andremo a lavorare in costa retro quindi carichiamo il filo sull'uncinetto entriamo fra una maglia alta e l'altra in costa la scavalliamo e andiamo dalla parte retro ovviamente dal dietro del lavoro e andiamo a lavorare la nostra maglia alta carichiamo il filo entriamo scavalliamo la maglia dal davanti teniamo sul filo e lavoriamo la maglia alta e abbiamo lavorato le nostre prime 5 ora abbiamo le maglie lavorate in costa retro in costa dietro e andremo a lavorarle in costa davanti quindi stessa cosa entriamo nello spazio fra una maglia alta e l'altra e usciamo nello spazio successivo come abbiamo fatto prima soltanto invertendo il giro e procediamo così per altri tre giri quindi adesso il primo giro invertiamo nel giro nei prossimi due giri andremo a lavorare dove abbiamo la costa davanti lavoriamo la costa davanti e dove abbiamo la costa retro lavoriamo la costa dietro quindi adesso procediamo a lavorare invertendo e poi insieme faremo il giro successivo ovviamente anche in questo caso il più difficoltoso è il primo giro perché poi dal giro successivo andremo a lavorare le maglie come si presentano quindi le maglie che abbiamo lavorato in costa davanti le lavoreremo sempre in costa davanti quelle che abbiamo lavorato in costa retro le lavoreremo sempre in costa retro quindi facciamo le nostre due catenelle qui abbiamo le maglie lavorate in costa dietro e andremo a lavorarle in costa dietro quindi una due tre quattro cinque in costa dietro e cinque in costa davanti e procediamo così per questo giro e anche un altro dopodichè invertiremo nuovamente la lavorazione ed eccolo qui il nostro punto una volta che avremo terminato le sei righe di andate e ritorno avremo terminato la composizione totale del nostro punto poi per allungare la lavorazione dovremo ripetere sempre gli stessi sei punti ve lo faccio vedere un pochino più da vicino ecco qui è molto 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 carino il nostro punto cesta o punto cestino a seconda di come alcuni lo chiamano bene il breve tutorial è terminato io spero di aver accontentato le molte amiche che mi hanno chiesto un punto più compatto per poter lavorare una borsa però come vi dicevo all'inizio del tutorial con questo punto ci si possono lavorare anche delle copertine dei cuscini è un punto non esattamente morbidissimo quindi non è proprio adatto a sciarpe o a capi d'abbigliamento perché risulta un pochino rigido quindi è perfetto per la lavorazione magari di un cappottino ecco questo assolutamente sì le borse vengono veramente benissimo con questo punto e con questo punto probabilmente in uno dei prossimi tutorial vi farò vedere la realizzazione del cestino porta frutta e verdura che vi avevo promesso di fare poi francamente vi chiedo scusa mi sono proprio dimenticata perché sono talmente tante le cose che a volte ho da fare che non me le ricordo tutte ora però l'ho ritrovato scritto quindi oddio devo fare il cestino e lo faremo con questo punto che risulta molto molto carino poi se voi lo volete fare leggermente più alto lo fate di 4 righe nel senso prima di di cambiare la lavorazione di invertire la lavorazione lavorate invece che 3 righe 4 righe e viene leggermente più alto comunque direi che questa dimensione quindi 3 righe per 3 righe sia ottimale per il nostro punto cestino bene io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao